Tutta l'Italia in zona bianca, niente coprifuoco e mascherine in tasca all'aperto. È un giorno simbolico del cambio di fase dopo mesi di restrizioni nella lotta contro il Covid. Se da una parte spaventa la variante Delta, dall'altra il crollo di ricoveri e contagi nelle ultime settimane ha portato il Ministro della Salute a firmare un'ordinanza con le nuove disposizioni. Da oggi dunque stoppa i dispositivi di protezione all'aperto, anche se la mascherina dovrà essere sempre a portata di mano. Infatti dovrà essere indossata in caso di assembramenti e nei locali al chiuso come bar, ristoranti, negozi e centri commerciali. Non credo che ci libereremo di questo virus per molti anni. Non credo che ritorneremo alla normalità, a una nuova normalità la chiamano, perché se deve rimanere comunque la mascherina in tasca pronta all'uso e il distanziamento sociale è tutto un cavolo, come si suol dire. Spero di sbagliarmi che piano piano avrà giudizio da solo questo virus, piano piano diventa più bollacione, ma ci credo poco. Lei è un po' più ottimista dell'amico? Io non è che è una questione di essere ottimista o pessimista, non ho le competenze, quindi partiamo da questo presupposto. Non le ho io e non so se le hanno gli esperti, questo è il vero problema. Siccome siamo in una fase on the road, quindi è difficile capire. L'esperienza dell'anno scorso ci dice che col caldo il corona tende ad attenuarsi, speriamo bene. Non ne posso più delle mascherine, veramente siamo al massimo della sopportabilità, quindi la libertà dell'individuo sta recuperando su una realtà non libera. Posso chiedere a lei che cosa ne pensa? Io credo intanto che la pandemia sia un dato di fatto e quindi bisogna cercare assolutamente di scongiurare il pericolo di infezioni, questo lo facciamo con senso civico, quindi le vaccinazioni in primis. L'utilizzo della mascherina specialmente al chiuso è importante perché dobbiamo tutelare noi stessi e gli altri, altrimenti non ne verremo fuori, quindi se ci sarà da sacrificarsi ancora un po', lo faremo, però dobbiamo farlo per tutti. E come in passato l'obbligo di indossarla, come specificato nelle fac del governo, non vale per alcune categorie. I bambini sotto i sei anni, le persone che per la loro invalidità o patologia non possono tenerla, chi deve interloquire nella lingua dei segni con una persona non udente, mentre si effettua l'attività sportiva, oppure mentre si mangia o si beve nei luoghi e negli orari in cui è consentito, infine quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi. Ancora per quello che riguarda il personale, dentro i ristoranti, dentro i locali, bar, piuttosto che anche i negozi, dovrà stare con la mascherina. Un ultimo sforzo per cercare di tornare alla normalità totale, nella speranza che finita l'estate non si torni a dei nuovi contagi, si possa tornare a una situazione di normalità che per noi è molto importante. Era ora di tirar via sta mascherina, anche dentro. L'avete comunque con voi? Io no, no, sono contro. Vedo che ha la mascherina indossata, anche se in realtà oggi all'aperto potremmo farne a meno. Che cosa ne pensa? No, io non sto a sentire gli altri, per la verità, faccio come mi sento, ecco. E si sente più protetta? Sì, mi sento più protetta, sì. Ancora per un po', fino a che la pandemia sarà in alto. Sentiamo cose brutte, della delta, qualcosa del genere, insomma. Vi vediamo senza mascherina, finalmente. Che bello, guardi dove ce l'abbiamo. Mi riprenda bene, per favore. Siete contenti comunque di questa soluzione? Sì, sì, è un impiccio in meno, insomma, sicuramente. Come tanto, noi siamo già vaccinati e tutto, per cui siamo diversamente giovani, per cui, ecco, ci fa piacere che ci liberano da questa sessione. Si respira un po' meglio. Sì, però bisogna avere sempre le precauzioni. Adesso andiamo al bar, se vediamo che ce l'ha ressa ce la rimettiamo, lui ce l'ha qua dentro, io ce l'ho qui e andiamo avanti. A portata di mano. Sì, esatto.